lì in area di rigore va giù però il 34 del Barletta forse colpito nella situazione precedente sembra parecchio dolorante De Marino, sembra mister molto dolorante De Marino lì a terra si l'ha fatto vedere già da prima che non ce la fa vediamo un po' cambio, sembra cambio è necessario il cambio, è necessario il cambio De Marino molto dolorante allora perde una pedina in una difesa già di per sé rimaneggiata il Barletta lo ricordiamo manca Camilleri che è il titolare del ruolo e adesso dovrà dare forfe anche De Marino che aveva giocato comunque una buona mezz'ora iniziale abbastanza attenta